Un albero crolla e si schianta su via di Corticella, coinvolte due auto semidistrutte dallo schianto, divento un palo dell'illuminazione pubblica, tanta paura e nessun ferito. I sindacati bocciano l'aumento indiscriminato dell'aliquote del Limo sulla prima e sulla seconda casa preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco Virginio Merola. Domani l'incontro con il vice sindaco Silvia Giannini. La Procura di Bologna prosegue le indagini sul disastro colposo in merito alla frana di Ripoli. Sull'Apennino Bolognese intanto il consigliere regionale della Lega Nord Manes Bernardini chiede che il caso diventi nazionale. Fa flop il registro comunale per le unioni affettive istituito per riconoscere le coppie di fatto anche dello stesso sesso, lo denuncia il consigliere del PDL Valentina Castaldini che dice che nessuno si è iscritto. Le Vunere domano la capolista Siena a 75-71. La squadra di Finelli vola al secondo posto in classifica e si guadagna un posto per la finalete di Coppa Italia. La partita è riproposta questa sera alle 21.30 sul Canale 10. Buonasera e ben ritrovati con questa edizione del nostro giornale. L'apertura, la cronaca con la notizia di un albero che crolla su via di Corticella oggi in pieno giorno. Tanta paura fra i residenti e i passanti ma per fortuna nessun ferito anche se è davvero giusto parlare di tragedia sfiorata. La ricostruzione nel servizio di Simona Giannese. Ore 13 e 22 di oggi siamo su via di Corticella. Un albero crolla improvvisamente e si abbatte sulla strada. Un boato fragoroso, un'auto letteralmente distrutta, un'altra danneggiata ed un palo dell'illuminazione pubblica abbattuto. Questo lo scenario che stamattina si presentava sotto gli occhi atterriti e spaventati dei passanti e dei residenti. È andata bene questa volta ma come si può vedere dalle immagini che vi stiamo mostrando, le conseguenze dell'incidente potevano essere tragiche. Immediato l'intervento dei vigili del fuoco che sono sopraggiunti con una squadra per valutare i danni e rimuovere dalla carreggiata l'albero. La polizia municipale giunta sul posto ha chiuso la strada in entrambe le direzioni e transennato la zona in via precauzionale. La circolazione è ripresa soltanto dopo le 16.30. L'albero si trovava all'interno dell'area dell'ex pastificio Corticella, oggi di proprietà di una multinazionale che ha recentemente provveduto al parziale smantellamento della fabbrica. Sulle cause del crollo i vigili del fuoco non si sbilanciano, è chiaro però che le radici erano molto appesantite, si erano create delle fenditure nella corteccia. Tutti aspetti che potrebbero aver provveduto a determinare l'improvviso e rischiosissimo cedimento strutturale. La proprietà si difende ed ammette dal canto suo di avere fatto regolarmente sia la manutenzione dell'albero che la messa in sicurezza dell'area cortiliva dell'ex pastificio. A compromettere lo stato di salute dell'albero e delle radici molto mal ridotte, potrebbero anche avere contribuito i recenti lavori di manutenzione stradale su via di Corticella e sulle strade limitrofe, ma siamo nel campo delle ipotesi, saranno gli esperti a dare una risposta più esauriente sulle cause del crollo. Cinque feriti di cui due di media gravità e tre lievi. Il bilancio di un incidente stradale avvenuto oggi verso le 14 a Bologna in via Barbieri all'angolo via di Corticella, dove secondo i rilievi effettuati dalla Polizia Municipale e gli accertamenti dell'arma, una pattuglia dei carabinieri giunta in prossimità del semaforo di via Lombardi lo ha superato quando era già diventato rosso per dirigersi su un intervento. In quel momento stava sopraggiungendo un'auto che non è riuscita a evitare l'impatto con la vettura dei militari a sua volta dopo una serie di carambole testa-coda ha tamponato tre automobili in transito, le quali sono finite contro altre vetture, uno scooter in sosta. In totale otto veicoli coinvolti oltre alla pattuglia dei carabinieri trasportati all'ospedale con ferite lievi. Una donna di 26 anni, un carabiniere di 38 e un 34 anni, mentre un altro militare dell'arma di 24 anni e una donna di 64 hanno riportato ferite di media gravità. Il comando provinciale dell'arma sta valutando la responsabilità dei militari coinvolti nell'incidente. Ed è stata una giornata di superlavoro, quella di oggi per i vigili del fuoco. In tarda mattinata sono intervenuti anche a liceo Sabin di via Matteotti dove c'è stato un principio d'incendio a causa di una canalina elettrica che si è surriscaldata ed ha provocato la fuoriuscita di un'abbondante quantità di fumo. A quel punto la scuola, come previsto dal piano di sgombero in situazione di emergenza, è stata fatta evacuare, mentre i pompieri hanno provveduto a ripristinare il guasto. A dare l'allarma è stato per primo il custode dell'istituto che si è accorto del fumo e dell'odore acre che si era diffuso all'interno dei locali. Domani le lezioni si terranno regolarmente. Voltiamo decisamente a pagina. Fa discutere la stangata dell'Imu preannunciata dal sindaco Virginio Merola nei giorni scorsi. I sindacati bocciano l'aumento indiscriminato delle aliquote sulla prima e sulla seconda casa e si preparano ad incontrare domani la vice sindaco Silvia Giannini. Vediamo. Sindacati sul piede di guerra sul caro Imu. Il sindaco Merola ha detto nei giorni scorsi che con tutta probabilità dovrà aumentare fino al massimo le aliquote Imu sulla prima e sulla seconda casa. Ma l'ipotesi di ulteriori aumenti indiscriminati delle tasse sulla casa viene bocciata duramente dai sindacati, che domani incontreranno la vice sindaco Silvia Giannini. Aumenti dell'Imu uguali per tutti, dice il segretario della CGL Danilo Gruppi, sarebbero al massimo delle iniquità. Bisognerà trovare un punto di equilibrio e preservare i servizi. Sulla stessa lunghezza d'onda il segretario della CISL Alessandro Alberani. Bisogna andare nel segno dell'equità, nel senso cercare di utilizzare la manovra tariffaria compresa l'Imu, cercando di colpire chi ha di più e tutelare soprattutto le famiglie a basso reddito e le famiglie colpite dalla crisi. Quindi una sorta di progetto di equità fiscale che parta dalle tariffe e non faccia col palcione un aumento ingiustificato e senza motivazioni. Quindi un sì nel segno dell'equità, un no nel segno di decidiamo noi e non contrattiamo. Ecco, domani incontrerete la vice sindaco e le direte questo? Domani noi diremo al vice sindaco che c'è una piattaforma di CGL Cigle Will che dice determinate cose sia sulle questioni sociali che sulle questioni tariffarie. Io credo che le famiglie stiano pagando tantissimo in questi giorni la manovra del governo Monti e noi non possiamo permetterci a livello locale di incrementare ancora di più il disagio di queste famiglie. Se però vogliamo chiudere il bilancio mantenendo i servizi, dobbiamo anche noi assumerci delle responsabilità. E' per questo che noi gli diremo che siamo disponibili a un confronto, ma che sia un confronto vero, una contrattazione vera e andare appunto in questa direzione dell'equità tariffaria. Sulla proposta di conferire la cittadinanza onoraria all'ex commissario Anna Maria Cancellire oggi è intervenuta proprio la diretta interessata. Proprio per l'amore che porto verso Bologna non voglio contribuire a creare divisioni che non fanno bene alla città. Pertanto vi chiedo di non proseguire il dibattito sull'opportunità di concedermi la cittadinanza onoraria. Ringrazio, prosegue, il Ministro dell'Interno, tutti e anche quelli che con tanto impegno hanno partecipato alla discussione, pur essendo di opinione diversa. Così la cancellieria nel tardo pomeriggio è arrivata la notizia che il Presidente del Consiglio Comunale, Simona Lembi, ha ritirato la delibera per la cittadinanza con profondo rammarico. Rammarico a cui ha fatto eco quello del Sindaco Merola. Malumori verso il riconoscimento alla cancelliera erano stati espressi dalla Lega Nord e da esponenti del PDL, mentre Celle aveva chiesto un momento di riflessione. E mentre procede l'iter giudiziario per accertare le responsabilità sulla frana di Ripoli, riattivate dai lavori per la variante Rivalico, l'area è stata segnalata come zona rossa sulla cartografia della Regione. Il Consigliere regionale della Lega Nord, Maness Bernardini, chiede che la questione diventi di interesse nazionale ed auspica un interesse di altre regioni italiane. L'ho detto oggi durante la nostra rassegna stampa. Vediamo, sentiamo Bernardini a microfono di Massimo Ricci. La zona rossa si amplia e riguarda sia l'abitato di Santa Maria Maddalena che la parte dove non ci sono di fatto case. ce ne sono molto poche, però anche lì la galleria a questo punto è sempre più a rischio, dice la Regione. Io penso che sia giunto il momento di alzare il tiro su questa partita. Nel senso che se parliamo ai cittadini di Bologna o di altre della Regione, di dove è Ripoli e del problema di Ripoli, magari nessuno ci degna neanche l'attenzione. Il problema di Ripoli è questo, che passerà l'autostrada. Passerà l'autostrada che è la nuova autostrada che va da Bologna a Firenze e quindi collega tutta l'Italia. Quindi chi passa da lì, che venga dalla Val d'Aosta, dalla Sicilia, da Bologna o dal Trentino, si troverà di fronte ad un pezzo di galleria di cui oggi non sappiamo se reggerà o meno a quelli che sono un movimento franoso della zona. Quindi interessa il problema tutta l'Italia. Ripoli in questo momento è interessata perché c'è uno smottamento che va a colpire anche delle case e lì la gente è costretta a lasciare la propria casa magari dove è nato e ha vissuto una vita per andare ad abitare dentro un hotello o dai parenti se li ha nei comuni limitrofi. Ma il problema non è solo di quelle famiglie lì, come qualcuno in un qualche modo sta tentando di fare, dicendo il problema è vostro, veniamo, vi riempiamo di soldi, basta che state esitti, ci fate continuare a fare l'opera. Il problema è di tutta l'Italia. E bisogna che iniziamo a interessare anche le regioni limitrofe. Io pensavo a quelle un po' vicine anche come amministrazione al partito che rappresenta la Lega Nord, quindi Veneto e Piemonte, magari cominciare a dire caro Veneto, cano Piemonte e cara Lombardia. Iniziate a chiedere all'Emilia Romagna qualche atto e qualche sicurezza su questa opera infrastrutturale. Da simbolo di presunte conquiste civili a clamoroso flop, il registro comunale per le coppie gay è di fatto istituito nel lontano 1999 a Bologna. Oggi si scopre che nessuno si è iscritto, lo ha segnalato la consegliera comunale del PDL Valentina Castaldini dopo aver interpellato gli uffici competenti. Sentiamo le sue parole. Dal 99, per cui sono ormai più di 10 anni, che ci sono state grandissime battaglie nei comuni per avere questi registri. Ormai la parola registri per noi è un uso comune, vengono sempre posti registri, registri sulle coppie di fatto, ultimamente si parla dei registri di fine vita. Per cui la curiosità mi è venuta, anche perché questo registro delle coppie di fatto, chiamato da noi dell'Unione Affettive, è pubblicizzato nella prima pagina del sito del Comune di Bologna, tutti i cittadini possono andarla a vedere, come un grande risultato politico. E io, nella curiosità di questo, ho fatto una semplice domanda nell'amministrazione, un accesso agli atti per chiedere di quanti si sono iscritti. Il risultato, l'ho portato anche qua, è che a nessuno, questa è stata la risposta dell'amministrazione, conviene iscriversi a questo registro e che di fatto nessuno, non mi è stato dato il dato di chi è iscritto ufficialmente a questo registro. Di fatto non mi si è voluto dire in maniera chiara che siamo a zero, ma la situazione è che a nessuno conviene, questa è stata la risposta. Mi sono divertita in questi giorni andare a vedere invece come stavano andando nelle altre città, perché ho detto forse è un caso anomalo o forse le nostre battaglie non sono abbastanza forti, ma Empoli, che è una delle icone, è stata la prima città che ha istituito questo registro, io credo che tutti siano dieci, in Firenze parliamo di una ventina in vent'anni, quindi sostanzialmente è un flop clamoroso. A Bologna ancora un raggiro ai danni di un'anziana che ha fatto entrare due donne in casa, ma non si è accorta che queste avevano lasciato la porta aperta mentre la distraevano. Una complice rovistava in camera da letto portando via 1200 euro in contanti, oggetto in oro. È successo il pomeriggio vittima del raggiro una 65enne ferrarese residente in via Spina, nella periferia della città. La vittima, mentre puliva il pianerottolo davanti all'appartamento, è stata avvicinata da una donna con un borsone che scendeva alle scale. Questa le ha spiegato di doverlo consegnare al piano superiore, ma di non avere trovato nessuno, ha chiesto di poter entrare con un'amica per scrivere un biglietto. Poco dopo, nel salotto, le due hanno detto di avere cambiato idea e sono andate via. Solo a quel punto la signora si è accorta del furto. Una lieve scossa di terremoto è stata registrata tra le province di Modena e Bologna, le località prossime all'epicentro. Sono state Zocca, Casteldaiano, Savigno e Vergato. Secondo i rilievi registrati dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia, l'evento sismico si è verificato alle 7.28 con magnitudo di 2,1 gradi. Ultima pagina, la manovra Monti e le pensioni. Sono quasi 603.000 i pensionati emiliano-romagnoli che hanno una rendita mensile al di sopra dei 1.000 euro e che non potranno più ricevere in contanti cifre superiori. Lo dice una ricerca del Monte dei Paschi di Siena. Andiamo a vedere dettagli nel servizio di Alessia Salvatore. Sfiorano quota 603.602.940 per la precisione i pensionati emiliano-romagnoli che hanno una rendita mensile superiore a 1.000 euro e che in base alle indicazioni del decreto Salva Italia non potranno più ricevere in contanti le cifre superiori a questa soglia. È quanto emerge da un'elaborazione dell'area Research Investor Relations di Banca Monte dei Paschi di Siena che ha predisposto soluzioni ad hoc per i pensionati, secondo cui sono 39.000 i cittadini che in Emilia-Romagna ricevono la pensione in contanti. Allargando lo spettro, si legge in una nota dell'Istituto Senese in Italia ci sono oltre 18 milioni di pensionati che all'anno percepiscono in totale quasi 227 milioni di euro e in media circa 12.500 euro. I pensionati che percepiscono più di 1.000 euro al mese sono quasi 7 milioni per un totale all'anno di quasi 154 milioni di euro e in media di quasi 200.000 euro. Di questi ultimi sono 450.000 i pensionati che ricevono assegni previdenziali superiori a 1.000 euro al mese in contanti. In Emilia-Romagna i pensionati sono 1.615.577 e rappresentano il 9% del totale nazionale. Inoltre la nostra regione è la seconda dopo la Lombardia più importante per numero di lavoratori a riposo su scala nazionale. La pagina sindacale con il ritiro della mobilità per i 18 lavoratori coinvolti e ripresa dell'attività commerciale entro 15 mesi è il risultato dell'incontro in provincia del tavolo di salvaguardia per la Cigar S.p.a. Azienda di ristorazione in stazione a Bologna in locali di grandi stazioni S.p.a. A causa del restyling dello scalo 18 posti di lavoro erano a rischio Grandi Stazioni ha riconfermato l'intenzione di dare a Cigar spazi per proseguire l'attività commerciale nell'arco massimo di 15 mesi mentre l'azienda dal canto suo è disponibile al ritiro della mobilità ricorrendo all'utilizzo di tutti gli strumenti e degli ammortizzatori possibili. Un nuovo incontro è stato fissato per il 19 gennaio per la sottoscrizione di un accordo quadro che definisca gli impegni delle parti. Ci fermiamo un attimo e poi saremo di nuovo in studio. A tra poco. Di nuovo in studio con TG prima di andare avanti con il giornale andiamo a rivedere i fatti principali della giornata. Un albero crolla e si schianta su via di Corticella coinvolte due auto semidistrutte dallo schianto diventano un palo dell'illuminazione pubblica e a tanta paura nessun ferito ma l'incidente poteva avere conseguenze tragiche. I sindacati bocciano all'aumento indiscriminato delle aliquote del Limus sulla prima e sulla seconda casa preannunciato nei giorni scorsi dal sindaco Virginio Merola domani l'incontro con il vice sindaco Silvia Giannini. La procura di Bologna prosegue le indagini sul disastro colposo in merito alla frana di Ripoli sulla penino bolognese intanto il consigliere regionale della Lega Nord Manes Bernardini chiede che il caso diventi nazionale. Fa flop il registro comunale per le unioni affettive istituito per riconoscere le coppie di fatto anche dello stesso sesso lo denuncia il consigliere PDL Valentina Castaldini che dice nessuno si è iscritto. Le Vunere domano la capolista Siena a 75 a 71 la squadra di Finelli vola al secondo posto in classifica si guadagna un posto per la final eight di Coppa Italia la partita riproposta questa sera alle 21.30 sul canale 10. E proprio di questa notizia parliamo apriamo questa parentesi sul basket e parliamo di questa spettacolare vittoria della Virtus su Siena. Vediamo servizio. Un mercoledì da Leoni per una grandissima Virtus che batte il Siena resta agganciata al treno delle prime in classifica il fortino di Casalecchio rimane così inespugnabile anche per i campioni d'Italia la Virtus fa 8 su 8 in casa centra la qualificazione alla Coppa Italia e si ritrova seconda a meno due e dalla Vetta la vittoria con Siena è stata netta simbolo della macchina perfetta messa in piedi da Finelli in pochi mesi Poeta a 6 assist come al solito n'è stata la mente sanichizza i muscoli una dimostrazione di forza maestosa 19 rimbalzi Coppone nel killer silenzioso che ha annullato McCaleb la Montepaschi ha retto 20 minuti poi è stata travolta nel terzo quarto anche se ha tentato una vana rimonta tutta nervi nel finale ma prima va messo in mostra gambe molli dietro e pochissima verve davanti nel primo tempo si consuma una lunga guerra di trincea per il controllo del ritmo della partita Bologna cerca di alzarlo ogni volta che può la Montepaschi invece lo vuole basso per disinnescare le armi bianconere l'equilibrio si spezza dopo la pausa Gigli 6 su 10 produce schiacciate e stoppate Siena regge fino a quando Rakocevic non chiede il cambio Senechize dall'arco firma il primo allungo 53 a 46 a 27 e un inedito Leng lo rifinisce con 3 minuti da urlo 64 a 50 al 32 come belve ferite i campioni reagiscono di puro orgoglio e risalgono a meno 6 64 a 58 una tripla da campione di Coponen ridà coraggio a Bologna che si arrocca a difesa del Fortino vedendo l'impresa vicina ma è la serata giusta perché Pienigiani è tradito nella volata da McCaleb 1 su 6 ai liberi ed Anderson solo un canestro negli ultimi 5 minuti e a vuoto sul rimbalzo chiave conquistato in attacco da Sani Chize a 90 secondi dalla fine la Virtus vince ed è seconda per i tifosi una serata indimenticabile e andiamo adesso al Teatro Arena del Sole dove fino a domenica verrà portato in scena Anton Chekhov con il Giardino dei Ciliegi ultima opera teatrale del drammaturgo russo andiamo a vedere con Alessia Salvatore dal 12 al 15 gennaio all'Arena del Sole di Bologna in Sala Grande arriva la drammaturgia russa con Chekhov il Giardino dei Ciliegi è sicuramente questa l'ultima sì ma è anche la più lirica delle opere teatrali di Chekhov è stata rappresentata per la prima volta nel 1904 anno stesso della morte del grande drammaturgo russo al centro ci sono le vicende di una aristocratica russa e della sua famiglia a ritorno nelle proprie proprietà proprietà che comprendevano appunto un grande Giardino dei Ciliegi in seguito alla messa all'asta di queste stesse proprietà per riuscire a pagare un'ipoteca la drammaturgia russa in generale i classici a teatro sono ancora apprezzati da un pubblico il più possibile trasversale ma sì lo sono anche perché il teatro ha deve avere la capacità di sapere affrontare dei testi classici rinnovandosi di volta in volta sono le interpretazioni poi che trasformano questi test in qualcosa di diverso da ciò che magari si è già visto in precedenza altrimenti non si vedrebbe il motivo per continuare a rappresentare Amleto adesso una notizia abbastanza curiosa un poliziotto maratonetta che Bracker resta un pusher è successo a Bologna dove un'ex maratonetta di 42 anni sfiamme oro adesso in servizio al commissariato Due Torri San Francesco è corso dietro un spacciatore fino a prenderlo per sfinimento e quindi bloccarlo l'inseguimento è durato poco meno di un chilometro ed è avvenuto ieri pomeriggio durante un controllo della gente a bordo della volante nel parco della Montagnola alla vista dell'auto un gruppetto di nordafricani si sono messi a correre disperdendosi uno di loro ha lasciato cadere un involucro con dentro 85 grammi di hashish e ha continuato a correre a quel punto il poliziotto ha iniziato a inseguirlo fin quasi a Porta San Donato dove ha avuto la meglio sullo spacciatore un tunisino pregiudicato di 26 anni che è finito in manette ancora una breve pausa poi di nuovo in studio tra poco in studio con TG parliamo di turismo e di viaggi perché Ryanair mette in pista in Aeromobile tre nuove rotte per la stagione turistica estiva del 2012 da fine marzo dal Marconi si potrà volare per Creta Salonico e Palma di Mallorca la presentazione delle nuove destinazioni è stata l'occasione per fare un bilancio degli ultimi mesi sentiamo Simone Giannis l'aeroporto di Bologna vuole continuare ad essere un buon punto di riferimento per tutti i nostri passeggeri progetti per il futuro breve i progetti sono di continuare ad avere voli svilupparne ancora nel 2012 nuove rotte soprattutto da marzo in avanti fare un piccolo bilancio dei risultati ottenuti dall'aeroporto di Bologna in questo anno 2011 che comunque come sappiamo è tartassato dalla crisi economica insomma la gente viaggia lo stesso nonostante sia stato un anno che ovviamente in cui ovviamente anche l'aeroporto ha risentito di questo momento di crisi soprattutto nelle ultime mensilità di quest'anno i primi dati ancora non ufficiali che noi abbiamo vedono comunque l'aumento di passeggeri anche nel 2011 rispetto al 2010 quindi tendenzialmente con un aumento vicino al 7% quindi direi una conferma della validità di questa infrastruttura dunque a dispetto della crisi si comincia a intravedere qualcosa di meglio? Comunque si comincia a si vede che si può resistere si può tenere questa struttura può sicuramente tenere anche in questo momento critico che non è finito il 2012 credo sia un anno importante da osservare con attenzione siamo in chiusura andiamo a rivedere allora i titoli del nostro giornale un albero crolla e si schianta su via di corticella coinvolte due auto semidistrutte dallo schianto diventa un palo dell'illuminazione pubblica tanta paura e nessun ferito ma l'incidente poteva avere conseguenze tragiche i sindacati bocciano l'aumento indiscriminato delle aliquote dell'IMU sulla prima e sulla seconda casa pronunciato nei giorni scorsi dal sindaco Virginio Merola domani l'incontro con il vice sindaco Silvia Giannini la procura di Bologna prosegue le indagini sul disastro colposo si merita la frana di ripoli sulla penino bolognese intanto il consigliere regionale della Lega Nord Manes Bernardini chiede che il caso diventi nazionale fa flop il registro comunale per le riunioni affettive istituito per riconoscere le coppie di fatto anche dello stesso senso lo denuncia il consigliere del PDL Valentina Castellini che dice nessuno si è iscritto le V nere domano la capolista a Siena 75-71 la squadra di Finelli vola al secondo posto in classifica si guadagna un posto per la Final 8 di Coppa Italia la partita riproposta questa sera alle 21.30 sul canale 10 della nostra emittente ed è davvero tutto con questa edizione del nostro giornale grazie per essere stati con noi tutti voi una buona serata arrivederci